Pensiero di Padre Pio di oggi Gesù con il suo amore può guarire ogni ferita ti chiede solo di ascoltare la sua voce e il suo cuore San Pio da Pietrelcina prega per noi e per il mondo intero Buona e santa giornata a tutti voi fratelli e sorelle siate sempre guidati e protetti dall'intercessione di Padre Pio Pace e bene Ave Maria Grazie a tutti